E lei è qua con noi, lei è vicepresidente dell'Associazione TransNapoli, Loredana Rossi. Loredana, riguarda questa serata, questa Kermes, cosa hai da dire per le ragazze? Cosa ha da dire? È un gioco, in bocca al lupo e venga la migliore. E che ti devo dire, non potevamo mancare a questo evento, dato che noi sopportiamo tutti gli eventi delle persone transessuali. Pensiamo che questa settimana, la settimana scorsa, c'è stato il Titor, cioè la commemorazione delle persone trans uccise. E purtroppo anche quest'anno le brasiliane hanno questo triste primato. Siamo qui proprio per... Vorrei dire che Loredana oggi ci ha dato un appoggio veramente grande per questo manifesto. Perché ci abbiamo avuto il bisogno e lei subito si è messa in mezzo e ci ha aiutato tantissimo. Quindi è stato veramente un grande aiuto da parte tua, di tutta la comunità trans. In nome di tutta la comunità e dell'evento ti diciamo grazie. Io ringrazio voi e ringrazio dell'invito che ci avete fatto. E viva sempre le trans, sempre più favolose. Grazie mille, è sempre un piacere. Ciao.